E questo è un cosettino in cui lei fa ad un certo punto la risposta alla mia chiamata come di solito faccio con un pubblico e mi fa la risposta abbiamo poca gente qui stasera Katie ti risponde è un blues che parla della... è un po' solo triangolo, non triangolo ma un uomo triste dell'amore rotto e pieno di speranza lo stesso l'avversità è sempre confronto al nero nella cultura musicale nera sempre affronta e sfida la cosa brutta intanto viviamo una vita molto vivace perché questa musica anche lei sfida l'avversità certo buongiorno blues, buongiorno malinconia se volete anche battere le dite, le dite sulle varie anche a casa buongiorno blues, blues, how do you do? yes, good morning blues, blues, how do you do? well, I'm doing all right good morning, how are you? oh, when you see my lady, won't you tell her please to come back home you're dreaming, buddy I won't change my way of living, won't have to leave my home no more, yeah if you don't love me baby, why in the hell don't you tell me so you're asking for now I'll pack my bag and I'll move it on down the line well now, I ain't mad at you pretty baby, don't be mad at me I ain't mad at you pretty baby, don't be mad at me I'm gonna stick around pretty mama, but just you wait and see si è libero So Luca Grazie Luca Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti